Ci troviamo oggi dinanzi a due re, il re Davide e il re Erode. Il primo, nella prima lettura tratta dal libro del Siracide, viene elogiato. L'altro, nel Vangelo di Marco, ne abbiamo un racconto, una cronaca, ma si capisce che c'è questo sfondo macabro, di disprezzo, di grande individualismo, di grande chiusura. Cosa potremmo trarre dalla presentazione di questi due re? In fondo, spesso noi pensiamo che, per poter vivere al meglio la nostra vita, dipende dalla nostra storia, dalla nostra condizione, da alcuni fatti, dalla fortuna. In realtà siamo dinanzi a due re, due persone che agli occhi del mondo possono essere considerati fortunati, perché essere re è una cosa che piace a tutti. Solo che, pur essendo entrambi nella stessa condizione, ciò che rende bello un re, ciò che rende bella una persona, è la sua relazione con Dio. Davide viene elogiato non perché non sbaglia o non pecca, conosciamo la sua storia, però, come sottofondo, c'è la sua relazione con Dio, il suo cercare Dio, il suo essere un uomo di Dio. Diverso, invece, Erode, il quale non ha Dio nel cuore, ma il suo io, i suoi progetti. Ciò che lui pensa è importante. Attenzione, Erode non è cattivo, non è questione di essere cattivo o buono. Non esistono persone buono o cattive. Esistono persone concrete che cadono nella tentazione del proprio ego. Che significa allora? Qualunque situazione tu possa trovarti, tu sei libero di fare della tua vita un'opera d'arte o qualcosa di macabro. E sappiamo che uno scarabocchio, come quello di Davide, di uno scarabocchio lui può fare un grandissimo disegno, un grandissimo capolavoro. Cerchiamo Dio nella nostra vita, qualunque sia la nostra storia e la nostra condizione. Buon amissimo.